Un personaggio storico per cui hai avuto un debole, c'è un personaggio della storia che ti è rimasto impresso, non lo so, te ne viene in mente qualcuno? No? Nessuno, neanche uno? Dai, il primo che ti viene in mente? Benito, un arbitro messicano bravissimo, in pochi lo conoscono ma è stato un grandissimo arbitro messicano, forse il migliore arbitro di tutti i tempi della storia del calcio internazionale di cui mia nonna è grande appassionata.